Le storie che nascono uomini e donne non sempre convincono gli spettatori. In molti pensano che tronisti e corteggiatrici siano in tv solo per farsi conoscere. Se questo sentore a volte viene smentito, in altri casi no. Nella prova della storia tra Medo Barbato e Sofia Galazzo, finita in malo modo. Buongiorno ragazzi, ancora una volta mi trovo qui a scrivere e a far fronte a situazioni a dir poco ridicole. Io non mi permetto di sputare sul piatto in cui ho mangiato, ma far passare in me per quella che cercano autorità, screditarmi in qualsiasi modo, credo sia il limite. Dunque, è tutto pilotato? Complimenti per la recita. Beh, senza dubbio questa storia è caduta nel ridicolo. Ad oggi vi dico di non associare più il mio nome a quello di Amedeo. Ha scritto così Serena Pannella, ex del tronista, dopo che la notizia della fine della storia tra Medo Barbato e Sofia aveva cominciato a circolare. A quanto pare i due si sono lasciati definitivamente, e il fatto che sia avvenuto così preso dopo la scelta lascia qualche dubbio. Da canto suo, il tronista risponde sui social con una frecciatina. Ora inizia la parte della vittima, ridicola, si chiude una porta. Di certo non era amore il coronato nello studio dei canali 532, ma se così fosse, Amedeo e Sofia farebbero meglio non farsi vedere dal mare di Filippi, che tiene molto all'onestà dei suoi programmi.